Emanuele Ruggeri allenatore della Settempeda per commentare questo pareggio che è scaturito nel big match della nona giornata del girone F di seconda categoria tra Settempeda e Sanatoglia 1-1 allora ottimo avvio della Settempeda in vantaggio su punizione deviata dalla barriera poi ottima prova dei bianco rossi poi il secondo tempo più equilibrata più combattuta poi alla fine l'episodio del rigore che ha sancito il risultato finale Emanuele come hai visto il match praticamente detto tutto tu primo tempo secondo me bene 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 per noi abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare più volte non abbiamo concretizzato e secondo tempo partita secondo me molto spezzettata anche dei numerosi falli e da parte nostra non mi ricordo avere da aver subito dei tiri in porti aver rischiato nulla quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi proiettandoci in queste nove giornate che abbiamo vissuto di campionato secondo posto per la Settempeda due punti dalla capolista e Sanatoia un piccolo rissoconto se sei soddisfatto del rendimento della squadra fino a oggi o altro allora in linea di massimo possiamo dire sì però secondo me possiamo crescere ancora molto perché ancora non siamo non siamo una vera una vera squadra non abbiamo ancora tutti l'obiettivo l'obiettivo primario e quindi sono molto fiduciosi questo proprio bisognerà acquistare mentalità perché siamo molto giovani e molti elementi nuovi quindi so che ci vorrà tempo però sono fiducioso Fabio Fede allenatore delle Sanatoia prima in classifica nel Gironeffi seconda categoria che ha ottenuto un ottimo punto qui al Soverchia contro la Settempeda nel big match di giornata quindi le Sanatoia mantiene il primo posto primo tempo in difficoltà per l'ottima prestazione dei Biancorossi poi le cose sono andate un po' meglio nel secondo tempo e poi alla fine l'1-1 sì diciamo che noi ce l'aspettavamo perché quando abbiamo preparato la partita questa settimana sapevamo che loro sarebbero partiti forte sapevo che loro avrebbero sfruttato il fattore campo e sapevo anche che loro ci avrebbero messo in difficoltà con la profondità e con la velocità dei loro attaccanti loro hanno veramente attaccanti bravi ci hanno messo in difficoltà sull'uno contro uno poi purtroppo la deviazione sulla punizione due infortuni ci hanno un po' spezzettato la partita e il secondo tempo prima nel finale del primo tempo ci siamo un attimo riorganizzati ho dovuto fare due cambi, ho dovuto riassettare un po' la squadra appena abbiamo ripreso un po' confidenza con i nuovi ragazzi che sono entrati siamo riusciti a mantenere un po' il campo, ci sono state delle palle in area di rigore niente di interessante però poi tra primo e secondo tempo abbiamo fatto un attimo quadrato siamo rientrati in campo come ha detto il mio collega la partita è stata un po' spezzettata dagli episodi naturalmente queste sono partite che vengono caricate secondo me eccessivamente prima però è normale perché prima contro seconda ci può stare siamo stati bravi poi secondo me il secondo tempo a sfruttare quelle che sono state le nostre occasioni abbiamo preso il centro campo e poi alla fine c'è stato l'episodio di rigore che io chiaramente in mezzo alla mischia non ho visto quindi non posso giudicare però secondo me in fin dei conti un pareggio meritato da parte nostra e un pareggio che ci sta per la partita che è stata Approfitto Fabio per parlare della stagione delle Sanatoia grande stagione, primo posto quindi un'ottima partenza davvero in queste prime nove giornate non scordiamoci che l'anno scorso le Sanatoia per chi non se lo ricordasse ha fatto i playoff quindi sicuramente una formazione costruita per lottare al vertice Sì, la nostra è una formazione costruita per lottare al vertice non abbiamo i mezzi e la forza che hanno altre società noi ce la mettiamo tutta, siamo consapevoli di quelli che sono i nostri pregi, i nostri difetti sappiamo benissimo che possiamo fare tesorio di un gruppo di ragazzi del posto sappiamo che ci sono dei ragazzi che vengono da fuori Sanatoia che ce la mettono tutta, che danno il massimo siamo giovani, sbagliamo spesso però il nostro obiettivo è quello di cercare di mantenere questa posizione in classifica più a lungo possibile anche perché se vediamo la classifica dopo la partita di oggi è corta e anche per poter entrare nella griglia playoff bisogna fare punti fare punti, fare punti